La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera sulla riorganizzazione dei consultori pugliesi. Il provvedimento si fonda su due pilastri. Da un lato il potenziamento dei consultori che scendono di numero ma si arricchiscono di competenze. Dall'altro l'istituzione dei consultori di base e dell'equip mobili. Con la delibera, ha spiegato l'assessore alla salute Ettore Attolini, compiamo un ulteriore passo in avanti nella definizione di percorsi di tutela della salute delle donne. Lo facciamo attraverso il potenziamento del ruolo dei consultori e una più arraggionata e funzionevole distribuzione sui territori. I consultori diventeranno organismi di promozione attiva di salute e di prevenzione di consapevolezza. Il progetto di riordino prende le mosse dalla controversa di Libera 735 del 2010, un atto che razionalizzava la rete consultoriale e prescriveva l'assunzione di medici non obiettori. Il modello organizzativo elaborato è più funzionale. Fino ad oggi la rete si presentava disomogenea e non equamente distribuita sui territori, composta da tante piccole realtà consultoriali, non completamente equipaggiate e rispondenti alle necessità delle donne. Il nuovo modello invece si sostanzia in una rete regionale composta da 98 strutture qualificate come consultori familiari propriamente detti, identificati con le strutture che possiedono già i requisiti di donietà previsti dalle normative o che richiedano minimi interventi e da 65 consultori familiari di base. Queste strutture dovranno assicurare sul territorio l'offerta attiva dei progetti previsti dal progetto obiettivo materno-infantile, integrato dalla promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e della proprietà degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo. I consultori familiari quindi si occuperanno di strutturare l'integrazione territorio-ospedale per realizzare la gestione consapevole della gravidanza, del parto, dell'accompagnamento alla nascita o della interruzione volontaria e consapevole della gravidanza.